Love is all, amati gli uni con gli altri. Evento benefico sabato 18 e domenica 19 giugno 2022, ore 19, presso il cortile della scuola elementare primo circolo didattico Giovanni Bovio. Durante le serate sarà possibile visionare le opere realizzate sul tema Cuore Sacro, direzione artistica a cura del maestro Giovanni Todisco e Clitorosso Art Gallery. Inoltre le performance a cura di Stefano e Silvia Lopez, lettore Vincenzo Delloio e con Metamorphosis. Sul parco potremo anche ammirare il defilé a cura di Habitex Privé, in collaborazione con I Colori dell'Anima, Style Coach Sabrina Altamura. Ci saranno le donazioni da parte di Emporio Solidale, Legami e Contaminazioni dell'artista Daniela Raffaele Clitorosso e inoltre interverranno il professor Franco Leone e Claudio Rocco e la musica di Livio Minavra. L'evento sarà trasmesso in diretta radiofonica su Radio Ruvo Web. Speakers Benedetta De Leo e Ezio Floriano. DJ set Rino Straniero. Media Partner Ruvesi.it Presenterà le due serate Alessia Di Terlizzi. Love is soul. Amati gli uni con gli altri. Amati gli uni con gli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti